Noi fraccioni di me, da che il governo ha fatto l'una passata a Venezuela, ha fatto un deal con il governo di Venezuela, con il PDVSA, con il CITCO, noi abbiamo chiesto il governo per andare in Parlamento, per una riunione pubblica, per noi debattere il tema importante qui. Il governo non è in Parlamento, il governo ha fatto una riunione nel turbario, ha fatto un PowerPoint presentation con un votatore, un simpatizzante, e ora non ha deciso di offrire il Parlamento per andare in Parlamento e per una riunione presentazione. Lamentablemente, qui è il risultato di questo? Non è un deal, il governo ha manipulato il popolo di Aruba, il governo ha manipulato il intero Parlamento, perché non è ancora ancora, e non è ancora ancora ancora. La situazione è una cosa che non è ancora, è 30 anni, 30 anni, 30 anni, è quasi 20 metà di iuli, non è ancora un deal, non è ancora ancora. Sono una cosa che non miocano, Programsino sono una cosa che non miacciono accogl e non si è la Hindu, non si è la campagna che, non mi lascia che non miacciono? Non si è la campagna, non si è un paese che non miocano, non stavo in Aruba, per certo, mi stavo in l'exteriore, per motivo di una medicina di una famiglia di me. Sin embargo, ma si fu in una riunione, si via di internet, mi scusca con il repubblico di Aruba, per seguir, e non si che era hop e hop e decepciona, ma sobra che non aveva nada nuovo. Nel final di conto, il risultato che ho messo un' presentazione con Mike Eymann, che è in casa e partito, è la vendita del Parlamento. Niente documento firmato, niente parte del deal, e nessun dettaglio di quello che sta negociando, non è ne stesso. E' questa cosa che ci vorrà preoccupare, ci vorrà decepcionare. E, lamenta, non ho dubbato che il governo si chiama tutte le cose che chiama in quanto ce lo vanno. Lo finimento che finisce noi 5 avi, nel metà come il luna, non sia una姿, nessun lettere di lei è ora scrivere, nessun lei è ora trattata, e non è ora come un'narrato, ma non è ora fissuta, non è ora come il Parlamento è ora, non è ora trattata. E' anche un po' di lamentare che il governo sta creando expectativa tra di expectativa e per noi, ogni via, speranza e l'optimismo è un governo che sta a cava. Il governo che sta rungendo con il sentimento del popolo, sta manipulando il popolo che non ha, sta a guiando demasiado. Nostra, si, che è fede, ci sono state convenzioni che questo bai, che è la apertura di rifineria, è la soluzione per l'Uma. E qui con noi, per parte del Parlamento, per parte del Fracione IMAP, non si lo ha, si può realizzare il sogno di vivere il corso e la maggior parte del nostro popolo.